Dico quello che mi sento, quello giustamente che dico. Gigi One è nato come Gigi One, Gigi One numero uno. Gato. Io a scuola sono, non è che ho io, ho fatto la guida e poi ho fatto la tezza industriale, non è che ho un titolo di studio, Gesaglio Coppita. Oddio, questa è una bella domanda, questo è proprio da dollari. Non ci dimentichiamo anche di mio figlio Donatello perché diciamo stiamo camminando insieme, abbracciate, diciamo la famiglia sta avendo un successo insieme. Lui è amato anche lui un po' da tutte, diciamo, le mie fans, anche le sue fans, anche lui è amato dalle persone anziane perché fa un celebre anche lui molto bello e gli piace a tutti. Buonasera. Donatello. Tu tieni fino a bruciare in casa, tu tieni fino a bruciare in casa. Non lo so che sta cosa, insomma. Non è quella domanda, questa non è la profe, non è la profe, ma è la profe, ma gli eri che man Io Gigi One, aspetta un'altra, chiamate un'altra. Veda, stiamo parlando da cicciuna a questa domanda, mi rende un po' di sorpresa, non mi aspettavo questa domanda. Non è una frugge la fa cicciuna. Gigi One! Grazie a tutti.